Non mi dispiace quell'odore, puro di umori e asciugamani appesi, tutto viscerale, aderente, grasso. È lì perché io lo registri. Migrazioni, basse, irrequiete e dunque viaggio leggera, con l'effetto di un'ansia dorata, diffusa di violenza e su e giù per il culo, crudi, morbosi, persi, soggiocati. Che te ne fai del sapore? Piacere creativo, godimento, definizioni che mi escono dalla pancia, blasfema, scellerata, profanatrice. Parlare e bere sa di piazza, non ho il senso dello spazio, ma una brillante comunicazione anarchica. Divora quando è necessario, divora. Fase comune e incantevole oblio senza l'empatia del vincitore. No, non mi dispiace.